Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. Niente, ho saputo che praticamente mi restava questa settimana più quella prima di fine giugno di stage, quindi mi sono goduta la giornata. E raga, siamo arrivati a 700 vlog, avrei dovuto registrare, ma ero stanca più che altro perché... E ho voluto anche rilassarmi perché comunque tira tira dopo un po' io sono stanca perché... Arrivo, scusate dicevo, praticamente poi mi sono messa a lavorare e sono arrivata anche in mezzo a ritardo lunedì perché dovevo farmi la doccia e tutto, quindi niente. A parte quello nulla e niente. Adesso io vi saluto, ci vediamo domani, anzi tra poco con il video di mercoledì che vi avviso, non ho fatto per anche... Ciao e niente, ciao.